Il commissariamento della regione dovrebbe essere scongiurato. Il piano del demagno marittimo, che sembrava addirittura d'arrivo già con l'ex amministrazione messinese, dovrà comunque sostenere una serie di passaggi non proprio così brevi. Ieri mattina, su convocazione del dirigente del settore urbanistica, Emanuele Tuccio, si è tenuto una verifica piuttosto accurata dello stato dell'arte. Il piano del demagno è uno strumento fondamentale se si pensa ad un futuro di sviluppo turistico. Erano tante le lacune che sono state accertate da Tuccio e dai funzionali del settore. Il progettista che è stato incaricato di occuparsene ha dovuto dare forfè per la riunione di ieri. Ci sono stati comunque contatti telefonici tra l'assessore Ivan Liardi e il funzionario regionale che sta seguendo l'iter. I tecnici del settore urbanistica stanno lavorando per integrare il piano e ieri alla verifica ha partecipato il responsabile della riserva biviere, Emilio Giudice. L'attività istruttoria dovrà consentire di prevedere anche quello che è indicato nel piano di gestione e assicurare il rispetto della fascia dunale. Le commissioni consigliari sviluppo economico e urbanistica hanno affrontato diverse volte i temi relativi al PUDM. I componenti hanno espresso la volontà di coordinare le attività per cercare di chiudere prima possibile arrivando all'approvazione. Lo scorso anno la Giunta aveva preadottato il piano ma ci sono importanti integrazioni da prevedere per evitare che lo strumento di pianificazione sia da rivedere prima ancora di essere barato ufficialmente. L'assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano a sua volta sta seguendo le attività in corso probabilmente potrà esserci un incontro in regione a fine agosto e un'ulteriore verifica a settembre.